musica allora ragazzi ripassiamo il piano il spasolo con giro in mezzo alle gambe sì mister ci sono messi pure caccosandri che è questa puzza? mannaggia ma sono giocata da merda questa è la colpa delle padrone che narcoi che vuoi fa? e invece i fusti di birra e vino dalla tribuna stampa le siete messi? sì mister ci sono messi pure lo toccaio di mia cugina quella allucinogina vai mo la 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 mannaggia ma quando si è bevuto qua? ma che ne sa ce la sono lasciata cinque minuti e l'arving sta succe ma che di pozza fai? la 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 apposta ora la cosa più importante è che non mi blocca la macumba di rastelli ah poi qua non ti preoccupare mister ci sono pensati io mannaggia ma chi è qua? pronto? pronto chi è la porchetta rastelli la deliziosa? sì sembra calda che ti serve? buongiorno siccome devo fare un matrimonio mi serve almeno due porchette per 500 invitati ma tu fai pure le patatine sì io faccio patatine, viuste, pollo quello che ti serve insomma va bene allora va preciso ma sin da ora il baccalà lo fai il baccalà beh no il baccalà che faccio? il pesciarolo io gli faccio il porchettare ma va bene scusi io non lo sapevo allora facciamo una cosa due porchette grandi poi qualche polletto patatine e poi se mi dai qualche vaschetta che uscire quale sarà il porto va bene per quanto ti serve? che hai mostri in gaffane e mi bozza tanto i capelli ma a me questo mi sarebbe il primo possibile perché è un matrimonio capite? prima possibile sembra l'ultimo di farmi ricordare le cose a voi comunque va bene va bene allora grazie fammi sapere ciao e ciao che tenevi senza pagare ecco non siamo parlati di conti e dopo il cattaccio almeno ci vuoi 1500 euro ecco la maiella ti ha messo la maschera raccita e ora mi fai la lua mcdonald se non andiamo oh poverata c'è la lua mcdonald vedi che ti fai mangiare da buco questo mi fa perdere tempo dai che ti hai da fare su bravi ragazzi mi pare che siamo fatti tutti allora alla faccia di chi ci vuole male? forza fatale dai ma come un mano eh sì allora mister tu preferisci una domanda con la mascherina o senza? accomodo tu insomma ehm non c'è santo niente ma tu sempre le domande difficili mi fai insomma ehm che ti dici se la vuoi fare con la mascherina fai con la mascherina se la vuoi fare senza fai senza e dopo io posso decidere se ti ha sponso con o senza il pizzetto perché ho speso pure 15 euro per fare la pizzetta alla paoluzzi beh questi sono i prezzi che vuoi fare tu il pizzetto mister non te lo fai no ma se mi piace anche la manù ti sta male? no non è che mi sta male che proprio non solo tu hai da pizzetti capite? direto tu invece che questa bella faccia e questa buona non bella pizzetta alla tartagnante che ci sia proprio buona perché non lo fai? ma io infatti una volta lo tenavo la pizzetta da pupa però ho capito l'idea ora mi faccio solo le basette vado una volta a settimana al parrucchiere e mi danno una filita e sta a posto tu invece frangentra tutto quindi è proprio uno che ti ha bisogno di io la parrucchiera ma su pizzetti vuole una filita ogni tanto se i capelli vuole una tagliata ogni tanto che vuole me fa? che ti ha semente? fammi capire? tu ti ragione però io sono un nipote di un'altra capellone e quindi è una questione di famiglia e però a me mi pare di sentire un po' di invidia Loisio comunque se ne vuole parlare poi ne parliamo in trasmissione tranquillamente fa poco lo spriuttosto che io ti caccio grazie a tutti